Re Carlo. La terribile profezia si sta avverando e lascia tutti senza parole. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Dopo sette decenni, finalmente è giunto il momento per Carlo, con il sostegno della regina consorte, di prendere le redini del potere. Ma cosa gli riserverà il futuro vista l'attuale malattia? L'attenzione di milioni di persone si concentra sulle profezie, che nonostante siano prive di fondamenti scientifici, catturano l'attenzione e la curiosità. Tra tutte spicca la profezia di Nostradamus, un visionario che ha incuriosito il mondo per secoli. Secondo le sue parole, il Regno Unito potrebbe essere sull'orlo della rovina, con la fine della monarchia inglese coincidente con l'ascesa al trono di Carlo II. Le sue parole, enigmatiche e suggestive, descrivono un futuro in cui le forze del cambiamento stravolgono l'ordine consolidato, lasciando il popolo in preda alla confusione. Ma chi sono i protagonisti di questa profezia? Molti sospettano che si tratti dei discendenti di William, visto che nella profezia vengono citati tre bellissimi bambini che da grandi rovineranno il popolo. L'attesa è palpabile, mentre il re Carlo, appena seduto sul trono all'età di 73 anni, si prepara a governare, seguito dalla sua progenie. Ma sarà davvero così? La profezia si avvererà o rimarrà solo un enigma senza risposta?